Un saluto a voi tutti, bentornati al TG7 Varese, il nostro settimanale che dedichiamo alle notizie di punta in arrivo dal capoluogo collezionate nell'arco di una settimana. Una delle più recenti riguarda il Tribunale di Varese e un intervento dell'onorevole Andrea Pellecini che è un parlamentare di Fratelli d'Italia eletto proprio sul nostro territorio, tra l'altro di professione avvocato, una figura politica sì ma che di giustizia e di tribunali si intende da vicino. Ebbene, proprio nei giorni scorsi è intervenuto in Commissione Giustizia la Camera con un question time, come viene chiamata in gergo, chiedendo che vengano stabilizzati i 14 precari assunti all'interno del Tribunale in forza all'ufficio del processo. Si tratta di membri del personale amministrativo, cronicamente carente, come ben sapete, a livello nazionale. Erano stati reclutati grazie a un'indicazione legata al piano nazionale di ripresa e resilienza, adesso però rischiano di essere tagliati. Pellecini chiede che vengano invece assunti e stabilizzati. Sono 14 giovani preparati, garantisce, sono qualificati, hanno passato un concorso pubblico, devono rimanere al lavoro anche per non danneggiare la macchina amministrativa del Tribunale. Ma questa è solo la prima notizia, abbiamo tante altre cose da raccontarvi. Ecco i servizi. Il Bernascone ruggisce ad altezza d'uomo grazie alla tecnologia e alla volontà di celebrare coloro che tanti secoli fa portarono in cima al campanile i suoi più tradizionali, significativi e artistici guardiani. Un'opera sofisticata che in questi giorni pre-natalizi esprime in maniera plastica di fronte alla Basilica l'ideale connubio tra le radici della storia e della fede e l'innovazione che supera senza dimenticare. Alla città proponiamo oggi questa visione ravvicinata di uno dei simboli del campanile, cioè questa faccia di leone che a suo tempo i nostri avi scolpirono e portarono a un'altezza veramente notevolissima. Ne fecero otto copie in maniera tale da porre nei quattro angoli del campanile e che adesso grazie a una tecnica molto moderna è possibile riprodurre in una plastica particolare. Tra i tanti atroci conflitti di cui faremmo volentieri a meno ce n'è uno che vale la pena affrontare, un conflitto tra colore bianco e nero, tra forma e sostanza, tra prospettiva e approccio monodimensionale racchiuso in Fondazione Morandini, perla incastonata nel centro di Varese. Che è un museo dell'arte concreta, ossia lo studio della forma, la forma come arte, la forma come design e la forma come architettura. Resa possibile dalla donazione di due compianti mecenati, la dimora dedica due piani ai lavori del suo fondatore, padrone di case, e altri spazi a mostre temporanee, come quella visitabile fino a metà aprile e firmata Ritter, 40 opere in cui ragione e sentimento si abbracciano e si sfidano, dialogano e combattono, invocano la fede o si tuffano nell'arcobaleno. Quindi chi viene e vedrà queste 40 opere, tutte colorate, estremamente colorate, quello che ho desiderato, in contrasto col mio lavoro bianco e nero. Perché questa ossessione per il bianco e il nero? Si scrive nero su bianco e guarda quanta emozione c'è in uno scritto. Si scrive bianco e nero anche per la musica. Per quanto mi riguarda l'amore per la forma doveva essere razionale, semplice e inequivocabile. Se io facessi del colore su un'opera, su una scultura, su un disegno in bianco e nero, probabilmente si vedrebbe più il colore che la ragione dell'opera stessa. Quindi il colore nel mio caso è un valore, ma è un disturbo. Ma da Morandini c'è spazio e tempo per un'esperienza ancora più multiforme che parte dalle origini tutte europee del movimento Arbeit Kreis, di cui lui stesso fu esponente, e si convoglia nella valorizzazione di linguaggi che non conoscono età, tempo e barriere. Oltre a questo, ovviamente l'arte concreta ha anche la poesia concreta. In questo caso ho invitato un mannico fondatore della poesia concreta a Berna e attualmente io ospito una sua esposizione. L'ho fatto molto volentieri anche perché sono legato a questo poeta che si chiama Eugen Gombringer, nato però in Bolivia ma sempre vissuto in Svizzera e in Germania. Una storia gloriosa chiamata Sampdoria. Serata a Marcorda, al Miv di Varese, dove è stato celebrato lo scudetto 90-91, vinto dai Sampdoriani, con la proiezione del docufilm La Bella Stagione. L'incontro, organizzato dal giornalista Diego Pisati, nelle inedite aveste di supporto e blu cerchiato, e presentata dal direttore di Gioca BTV Vito Romaniello, hanno preso parte gli ex calciatori Luca Pellegrini e Beppe Dossena, che quest'anno ha festeggiato anche i 40 dal mondiale vinto in Spagna con gli azzuri di Bearzonti. Sarei potuto andare alla Sampdoria prima, ma il presidente Mattomani l'anno prima mi disse che avendo avuto problemi allo stadio, quindi non poteva esporre la società ad una spesa particolare, quindi io andai a Udine, ma mi richiamò poi a primavera e quindi io lo ringrazierò per tutta la vita, perché vincere uno scudetto con la Sampdoria non è da tutti i giorni. Sono nato qui, questa è una città che rimarrà sempre nel cuore per me e quindi qual è la migliore occasione, se non quella di vedere un film che riproduce praticamente il coronamento di una carriera che è partita proprio da qua. A salutare il capitano della Sampdoria c'era un gruppo dell'OS di Bosto dove ha cominciato a giocare con in testa il presidente Osvaldo Tonelli e il dirigente Luigi Troger e una rappresentanza del città di Varese. Il vicepresidente Stefano Pertile era accompagnato da responsabili del settore giovanile bianco-rosso e dei calciatori Gianluca Parpinella, Giovanni Foschiani e il baby Edoardo Cornelli. Stiamo facendo una squadra fortissima. Il lago non morirà mai, lo ripete più volte Ernesto Giorgetti, mitico pescatore cazzaghese, autore di un libro destinato a diventare scrigno e testimonianza dei tanti tesori custoditi dalla terra e dall'acqua, dal canneto e dalla palude, dai muti abitanti dei fondali e dal lento trascorrere di stagioni cicliche mai uguali. No, non si può uccidere il lago, ma certo, gli si può fare un gran male. E anche questo, ribadisce Ernesto, 87 anni di energia e lucidità, ricordi e voglia di raccontare. Di fronte al pubblico folto, rapito, riunito al chiostro di Voltore dall'organizzatore, Paolo Giorgetti, col ministro Giancarlo, che se si tratta di lago non manca mai, ma che al proscenio preferisce le sedie in fondo, i sindaci di Cazzago, Bugugiate ed Averio, l'esponente provinciale Magrini, il comandante della guardia di finanza Sharaffa, il vice sindaco di Gavirate, Parola, a fare da padrone di casa, e con l'assessore Borghi e il dottor Maccarelli a solleticare i ricordi del relatore, attraverso domande e letture, rimandi e previsioni. E con un'urgenza tenere viva la fiamma della cooperativa Pescatori, alimentarla, attizzarla, trasmettendone il calore alle generazioni che verranno, perché altrimenti sì, il lago ci sopravvivrà, ma un pezzo di cultura e di identità se ne andrà via col vento. Il legame tra Francesco Gabbani e Varese si fa sempre più solido, lo dimostra il videoclip Natale tanto vale, girato nella 5 Ice Arena, in cui il cantautore, versione Babbo Natale, si aggira in un palaghiaccio deserto, pattinando goffamente e finendo più volte al tappeto. Oltre alla collaborazione col paroliere varesino Fabio Ilacqua, ricordiamo che il vincitore di Sanremo ha già condiviso un video con un piccolo talento del nostro territorio, il bustocco Riccardo Milani. A Varese è già Natale, i giardini estensi si accendono di luci e di colori, con un tutto esaurito di famiglie, visitatori, soprattutto bambini, non destinatari di queste feste, bensì, precisa Valerio Festi, i veri protagonisti che attraverso le loro storie e i racconti che qui trovano proiezione e traduzione artistica diventano gli artefici di un futuro non solo auspicato, ma possibile grazie al loro ottimismo. Il comune parla di 10.000 presenze, ma qualunque sia il numero dei partecipanti, il debutto non poteva essere più clamoroso. animato dallo studio Festi e raccontato dal cuore creativo dei bambini, guidati in ogni scuola dall'entusiasmo dei loro insegnanti. Si sono suddivisi in gruppi e si sono lasciati ispirare dal titolo, cara terra ti faccio un dono e diciamo che hanno rielaborato un pochino a modo loro con una prospettiva che è straordinaria, quella dei bambini, il problema del risparmio energetico che è purtroppo una realtà con la quale dobbiamo fare i conti. Già, c'è la crisi con cui fare i conti, una crisi che ai giardini sembra per un attimo dimenticata, ma che in realtà morde, spaventa e costringe a qualche rinuncia. Noi abbiamo ridotto di oltre 4 milioni di kilowattora solo per l'illuminazione pubblica e tante altre iniziative legate al risparmio. Ma è comunque possibile reagire, specie se ci si affida agli occhi limpidi di chi ha fame di vita, di colore, di futuro. Ogni bambino ha un suo mondo, ogni bambino ha espresso un racconto diversissimo dagli altri, cioè davvero io sono un pessimista, in questo momento della storia sono depresso, credo lo siamo tutti, si parla di bomba atomica, quindi i bambini invece sono ognuno per conto con la sua testa, intanto vive, vive proprio il presente, è capace di essere forte, di essere un autore del suo presente, così piccoli e così capaci, proprio capaci. Buon Natale a tutti quindi, in una Varese quest'anno alleata di Lugano, Lecco e Cernobbio è desiderosa di rivendicare il proprio essere capoluogo. Un Natale quindi che parte da qui, non è solo giardini, abbiamo anche la pista, abbiamo il Centro Storico, un bellissimo mercatino e abbiamo le nostre vie piene di negozi dove fare shopping. Quest'ultimo servizio riprendeva con forza l'inaugurazione dei giardini incantati, come sono stati ribattezzati in vista del Natale i giardini estensi di Varese. Questa grande installazione artistica dello studio Festi che molto ha fatto discutere e che nel giro di pochi giorni ha portato più o meno 30.000 visitatori nel cuore di Varese. Ad alcuni piace, ad altri no, ma sicuramente se ne parla e se ne parla parecchio, tanto che anche un quotidiano nazionale come Repubblica ha dedicato ai giardini incantati un grande approfondimento. C'è però qualche voce dissonante e nel corso dei nostri TG ve l'abbiamo raccontata. Oggi ci soffermiamo ad esempio sulla polemica innescata dall'ex vice sindaco di Varese, Daniele Zanzi, che di professione è agronomo e che già una decina d'anni fa se l'era presa con l'allora amministrazione fontana per come in periodo natalizio era stata trattata la fontana simbolo dei giardini estensi. Anche in questo caso la pietra dello scandalo è proprio la fontana dei giardini che per ragioni artistiche, cioè per consentire il riflesso delle installazioni volute dallo studio Festi, non è stata svuotata. Quell'acqua con le temperature basse di questi giorni ghiaccerà e il ghiaccio rovinerà le impermeabilizzazioni della fontana creando presumibilmente un danno pubblico. Questo paventa Daniele Zanzi che ha voluto così far sapere il proprio polemico pensiero e sapete non è una novità perché da qualche mese a questa parte l'ex vice sindaco è in rotta con la sua ex amministrazione comunale di riferimento. Prima di chiudere però altre due notizie. La prima una bellissima iniziativa all'ospedale del Ponte che in occasione dell'Immacolata ha visto letteralmente calarsi dal tetto sei babbi natale molto agili, molto atletici. Un'iniziativa del Ponte del Sorriso insieme ai collaboratori dell'edilizia acrobatica e in effetti di acrobatico c'era parecchio. Questi Santa Claus in versione atletica hanno fatto una sorpresa magnifica per i bambini che sono costretti purtroppo al ricovero all'ospedale del Ponte hanno portato doni, hanno portato sorrisi, hanno portato gioia. Quindi vale la pena raccontare di queste splendide iniziative. È tutto anche per questa settimana. Il TG7 Varese vi aspetta giovedì sempre alle ore 20 e in replica il giorno successivo all'ora di pranzo. Lo stesso vale per gli altri TG7 in onda tra mercoledì e sabato con replica il giorno dopo. Arrivederci.